buongiorno bentornati sul mio canale allora è mattina io mi sono preparato per andare in palestra sto aspettando che apra quindi ho deciso di girarvi questo video ed è un video molto semplice in cui vi farò vedere tre profumi senza raccontarvi la piramide olfattiva anche perché di due non ho grandi certezze ma volevo farvi vedere che cosa mi hanno regalato recentemente di seconda mano insomma una persona mi ha portato una borsettina piena di profumi dicendo tieni perché io non li uso e quindi ho fatto una piccola cernita e quindi vi volevo far vedere come tante volte alla fine della fiera è vero i profumi di nicchia per quanto mi riguardano e ovviamente qualche profumo design fatto come dio comanda rimangono il top inutile dirlo però poi tante volte si va la ricerca si va la ricerca e poi un po quando si trova la semplicità tante volte ci si rende conto che magari non per forza una cosa come dire di un certo livello ci regala delle emozioni ecco poi sapete che io non è che sono selettiva non mi interessa avere il profumo per forza costoso a me piace avere il profumo come ben sapete che intanto un pochino si distingua da ciò che è la massa e poi che mi regali delle emozioni mi faccia fare un viaggio olfattivo non un profumo buono ma finalizzato ad essere solo tale poi ci sono lo strappo alle regole profumi magari commerciali o tra virgolette un po più conosciuti che mi piacciono e quando è successo ve l'ho anche detto è proprio da un profumo straconosciuto commerciale ma che è stato uno dei miei primi amori di di adolescenza che parto e quando ho visto all'interno della della borsa che mi è stata portata questo non ho potuto che dire finalmente finalmente perché perché è un profumo che si trova ovunque ordinabile su internet si trova d'acqua e sapone ma non ho mai osato ricomprarlo proprio perché l'ho sempre reputato un po il profumo dell'adolescenza il profumo dei primi amori dei flirt tra i banchi tra i banchi di scuola no e mi è rimasta la fissa di questo profumo oltre da la ragazzina che ricordo che in più di una in classe lo possedevamo ed era veramente una bomba a fotonica questo profumo una persistenza unica una bontà indescrivibile appunto stavo dicendo che mi è tornata la fissa quando poco tempo fa una ragazzina passa davanti e lascia la scia di pink sugar ma a parte questo entra in un luogo pubblico e quando esce il profumo di pink sugar rimane nell'area per diversi minuti ma veramente diversi minuti e io ero lì che dice ho pensato questo cavolo di profumo che dal 2004 che gira mi sono vent'anni che questo profumo in commercio ma ancora piace e che cavolo di persistenza ha creato la colina quindi ogni tanto me lo metto su anche se il suo fa caldo ma non vedo l'ora di gustarlo piuttosto nei periodi autunnali invernali e che dirvi è molto simile a un profumo che ho finito di cui ho parlato molto e in seguito anche mio video diverse persone di voi hanno comprato quel profumo la famosa ed economicissima e buonissima vaniglia di jean louis gadi vanille dove appunto stiamo rievocando i profumi di infanzia quindi che dirvi lo conoscete tutto questi tutti questo zucchero caramellato questo zucchero filato che si sente alle fiere d'autunno che vi attira anche se non lo vedete lo sentite vi girate inevitabilmente a cercare la macchinetta dello zucchero filato è un profumo bellissimo se non è roping sugar anche una la nota della liquirizia all'interno che effettivamente smorza un po quella dolcetta nel senso sia un profumo dolcissimo però non l'ho mai trovato stucchevole non l'ho mai trovato da mal di testa probabilmente è quella liquirizia che gli dà questa conferisce un po questa nota un po più secca sul finire e quindi non lo fa sconfinare in una cosa troppo big bubble marshmallow e quant'altro quindi io anche l'altro giorno ricordo di averlo spruzzato e una persona mi fa mamma mia ma ti sei spruzzata il pink sugar perché ormai è un profumo che ha spopolato soprattutto poi sendo uscito più o meno nei periodi in cui io ero è uscita nel 2004 ok e quindi comunque io ero piccolina poi sono diventata adolescente comunque questo era il profumo che alleggiava nei bagni delle scuole superiori e quindi è un profumo che tutte noi della mia generazione conosciamo e lo conosciamo alla prima snasata come si riconosce Rema la prima snasata e quant'altro i come dire i best seller insomma quindi un profumo semplicissimo ma che a me regala delle emozioni molto forti un altro profumo low cost cristallino fresco buonissimo e in oserei dire soli nota perché non sento delle evoluzioni particolari o degli ingredienti che spicchino piuttosto che la rosa è appunto il dupe del famoso chloe roses questo qua della suddenly fragrance che non ho capito se sono quelli dell'idl perché io non mi sono mai avventata su quelli dell'idl ne ho sentito parlare anche bene ma essendo che sono tanti diupo di profumi che a me non piacciono non mi sono mai posta il problema e in ogni caso questo è chalù chalù che è la coppia sputata di chloe ed è un profumo finissimo raffinatissimo è una semplice rosa che incarna secondo me la l'eleganza la femminilità la purezza non è un profumo sicuramente che non avete mai sentito perché è il profumo della rosa però è un profumo arioso è un profumo anche in questo periodo che mi spruzzo molto volentieri perché intanto non è invadente intanto appunto ripeto è cristallino è chiaro è fresco è un rosetto all'alba e che vede le sue roselline schiudersi con questa questa ruggiada che scorre sui boccioli questo è questo profumo quindi è molto fine un profumo sicuramente per delle occasioni un attimino più come dire rispetto a questo che proprio una valanga delle situazioni un po più formali quindi senza spendere tanti soldi se volete avere un profumo accogliente pulito fresco magari per andare in ufficio piuttosto che andare a sbrigare una faccenda in cui comunque magari avete un interlocutore di fronte ecco o una una avete un bel abitino in camicia siete vestite in maniera molto fine lui è quello che secondo me s'abbina meglio tra questi è una circostanza del genere quindi qua abbiamo l'infanzia la voglia di giocare qua abbiamo la parte adulta nostra la femminilità il garbo anche insomma i bei modi ecco qua siamo già cresciuti e poi c'è lui che io vi metto dentro lo stesso ma ho provato a cercare su internet non mi viene fuori niente se non qualche vecchio annuncio di vendita su qualche sito pure addirittura mi dicono che fuori produzione quindi non so a qual'epoca storica risalga però l'ho trovato molto interessante questi sono i profumi che si trovano che si trovavano non ricordo più se c'è ancora questa linea da o vs e questo si chiama sensual è un profumo è un profumo che ha una una tal cattura di base quindi un po' a tradimento perché quando ho visto il nome ho detto sarà una roba di quelle a cui non potrei avvicinarmi magari un appazzone di roba dolce e stra stra commerciale in realtà allora il profumo riconosco è un po' vecchiotto però ha un suo perché nel senso lo vedo molto su un maglioncino color sabbia in autunno spruzzato abbondantemente perché ha un che fatemi fare il paragone ma in maniera proprio per rendervi minimamente l'idea ha un po' un rimando a salimar quindi siamo un po' su quelle vibes questa tal cattura questa questo timbro qui ok quindi è un profumo confortevole è un un profumo coperta che coccola che crea questa nuvola intorno a voi sicuramente dolce però non in maniera esagerata nel senso non è fresco però è una dolcezza data dal calore che lui sprigiona qui a me sembrerebbe potesse esserci dell'iris come dentro dell'ambra non riuscirei a decifrare nell'esattezza che cosa ci possa potrebbe esserci del cashmere non lo so però appunto è avvolgente e proprio confortevole quindi anche questo non mi sono sentita di scartarlo perché quando l'ho sentito il tuo cavolo è interessante come profumo perché appunto mi lo vado a mettere lì vicino a quello che può essere mehares o ambra liquida quindi quei profumi da comfort zone per il periodo un po più freddo e ripeto è molto molto così insieme a loro che giustamente mia mamma non si è fatto scappare perché lo adora se l'è preso c'era un altro grande classicone che a me piace tanto ed è il famoso far away di avon una delle chicche una delle perle uno dei miei profumi di giovinezza non che io adesso fossi anziana però era un profumo che portavo molto volentieri ormai quasi 12 anni fa mi ero presa il profumo mi ero presa il bagno schiuma mi ero presa la crema corpo addirittura il talco avevano fatto nella far away e questo connubio davvero creava una situazione molto interessante perché il profumo reggeva molto ed è un profumo secondo me anche quello che per quanto classico per quanto conosciuto è un profumo che non stanca mai ci sono dei profumi che sono sentiti strassentiti commerciali che poi si stufa invece ci sono dei miti intramontabili tra cui appunto il famoso far away di avon anche lui un po con queste vibes orientali un po talcato questa pesca questa albicocca c'era anche il cocco se non erro qualche fiorellino anche la comunque e che che lo rendeva lo rendeva unico e la boccetta collegato a mia mamma penso sia anche parecchio aveva parecchio vecchia perché aveva una colorazione abbastanza scura il profumo non era andato assolutamente male e però la persistenza c'era quindi tante volte sapete che magari alcuni profumi li riformulano e quindi non rendono più come una volta quello secondo me è un profumo che ha la sua età e è veramente molto persistente glielo regalato volentieri però è un profumo di quelli che in collezione secondo me è giusto avere per gli amanti del low cost e di alcuni classici ecco bene questo è quanto vi ho fatto vedere cosa mi è arrivato regalato da appunto da un'amica da una persona che appunto non ne voleva più sapere e sbarazzandosi di queste cose mi ha fatto rivivere delle emozioni veramente low cost io vi saluto ci vediamo in un prossimo video ciao